Il riflesso della violenza sulle donne, tanti, troppi figli delle vittime di femminicidio, loro più di tutti necessitano di supporto morale e psicologico, un'esigenza che Amnesty International Gruppo 296 insieme a GEA e Psicologia Insieme ha recepito ed elaborato in un incontro che avverrà giovedì 7 marzo alle 20.30 in Sala Montanari a Varese. Obiettivo, trovare un punto di incontro per i bambini ombra, spesso disorientati e impauriti. Sono tutti quei bambini che sono 1628 circa, almeno all'ultimo aggiornamento che abbiamo, che sono i figli delle vittime di reato di femminicidio e di cui praticamente poco si parla. Il Tredunione, come diceva la dottorezza Grassi, è proprio il punto in cui Amnesty si fa cura, visto che combatte per i diritti umani in tutto il mondo, dei diritti negati all'infanzia. La società dovrebbe essere molto vicino, presente nei confronti dei bambini e di coloro i quali rimangono purtroppo senza genitori, qualora la mamma venga uccisa nei casi di reato di femminicidio oppure il padre è incarcerato. Questi bambini non si sa a chi saranno ben affidati, non si sa bene quali saranno i traumi che poi si ripercuoteranno per tutta la loro vita. Amnesty tiene molto i diritti dell'infanzia, diritti all'accesso alla salute, al gioco, a poter trascorrere un'infanzia serena, diritto al gioco soprattutto. Una serata informativa e in primis di sensibilizzazione su un tema molto delicato. Sono molto contenta che come associazione, come avvocato che Amnesty abbia deciso di fare una conferenza su questo argomento perché bisogna sensibilizzare comunque anche i minori che si trovano in situazioni di forte difficoltà anche perché sono giovani che poi cresceranno, saranno uomini e donne e bisogna curare che possano crescere in modo equilibrato. Ci piace anche l'idea di porre l'attenzione sull'aspetto di una società che deve guardare non solo a quello che è successo nel momento in cui avviene il delitto ma anche supportando quelle che sono le vittime che sono state definite invisibili. Quindi il collegamento è con la storia di Maria Teresa Novara dove c'è una società che non ha voluto guardare per mantenere un proprio perbenismo come viene ben raccontato nel romanzo La testa dell'Idra e Anatomia di un delitto e per quanto riguarda questi bambini figli delle vittime di femminicidio.